Se ancora non hai approfittato del contributo a fondo perduto della regione Friuli Venezia Giulia, ti invito a farlo ora. È una grande opportunità che non puoi perdere. Il bando riguarda installazione di impianti fotovoltaici, batterie d'accumulo e, novità del mese di luglio, anche solari termici. I fondi rimanenti a disposizione sono quelli che leggi. Come puoi vedere, migliaia di famiglie hanno già approfittato di questa opportunità. Moltissimi hanno già ricevuto il 40% della cifra investita direttamente sul loro conto corrente. Ti ricordo che il contributo è cumulabile con altre detrazioni fiscali. Per il solare termico la formula è leggermente diversa, ma ancora più vantaggiosa, perché il contributo regionale è del 35%, ma in questo caso la detrazione fiscale è del 65%. Con il solare termico puoi anche scegliere di ricevere, al posto della detrazione fiscale, il contributo del conto termico 2.0, che come vantaggio ti dà la possibilità di ricevere un bonifico da parte dell'ente GSE entro 120 giorni dalla presentazione della pratica. Il 15 novembre il bando termina e, come puoi ben capire, il tempo a disposizione è breve. Se la cosa ti incuriosisce e vuoi approfondire anche per la tua abitazione, ti invito a compilare l'autoanalisi energetica gratuita. Trovi il link in descrizione. Noi del Sole in Tasca ti garantiamo la massima velocità nella risposta e tempi brevi per un sopralluogo da parte di un nostro tecnico per valutare la tua situazione e prospettarti un impianto su misura. Il tempo è poco, ma l'opportunità è grande. Ciao!